L'Arcivescovo Monsignor Filippo Santoro ha presentato il programma dei festeggiamenti prossimi in onore del Santo Patrono di Taranto San Cataldo. Dall'1 al 10 maggio una serie di appuntamenti religiosi e civili che coinvolgeranno soprattutto la città vecchia ed i suoi abitanti. Momenti centrali il giorno 8 maggio con la suggestiva processione della statua tra Mar Grande e Mar Piccolo in collaborazione con la Marina Militare ed i pescatori del luogo. Poi il giorno 10 successivo, giorno della ricorrenza religiosa, la solenne messa pontificale nel Duomo e la processione a terra da città vecchia a città nuova che si concluderà con la benedizione dell'Arcivescovo ai cittadini dal balcone della Chiesa del Carmine. Ancora un momento di forte tensione spirituale e di fede dopo la Pasqua. Ascoltiamo Monsignor Santoro. Il nostro Patrono ci testimonia che la fede continua nel tempo. Dopo la resurrezione hanno seguito il Signore, tanti e San Cataldo l'ha riavvivata in mezzo a noi. A partire dalla città vecchia offre speranza a tutta la città.